Terza Coppa dei Campioni è il modo più bello per salutare la Turchia, questa tua esperienza turca? Sì, sono veramente fiera del lavoro che abbiamo fatto. A inizio dell'anno è stato veramente difficile perché eravamo una squadra nuova, quindi sono fiera di come abbiamo concluso la stagione. 40 punti in finale, hai lasciato il segno. Sono veramente fiera, non mi sono resa conto, devo ringraziare i miei compagni perché senza di loro non sarei dove sono ora e quindi è veramente grazie a loro e al lavoro che abbiamo fatto di squadra. Senti, è il modo migliore per presentarti, detto che ti conosciamo benissimo per il tuo rientro in Italia. Sì, sono veramente fiera di essere arrivata fino a questo punto, soprattutto perché le Super Finals erano in Torino, quindi è un onore per me aver dimostrato il lavoro che sono andata a fare in Turchia. Che anno è stato? Agli europei? Cosa? Quando ti rivedremo agli europei? Credo di sì. Che stagione è stata questa per te? È stata una stagione di crescita molto interessante, dove era tosta perché mi aspettavo tutt'altro e quindi sono fiera del lavoro mentale e fisico che ho fatto, grazie allo staff, grazie alle ragazze, quindi è stato un anno bellissimo. Aspetto alla Paola che è partita per la Turchia 8-9-10 mesi fa, che Paola torna in Italia? Ma torna una Paola molto più consapevole, che ha lavorato tanto, che è cresciuta e che non vede l'ora di divertirsi a casa sua. La Paola nazionale ci sarà Milano? Non vedo l'ora. Hai visto le finali in Italia, ti abbiamo visto al Palaverde, che Milano hai visto e che in Moca hai visto? Ma è stata una partita tosta e bella, è stato emozionante tornare al Palaverde, dove sono stata per tre anni. Non vedo l'ora di giocare nel campionato italiano. Non vedo l'ora di giocare nel campionato italiano.